L'abbiamo strappata all'antidope, in pizzi vieni qua La migliore, 16 punti, bravo Francesca Francesca, allora, come sta la tua schiena? Esatto, abbiamo visto il tape, l'abbiamo visto tutti, almeno l'ho visto io No, no, sta bene, sta bene, sono contenta di questa reazione, sicuramente dobbiamo fare di più Dobbiamo fare di più, vai Voglio dire, comunque la reazione secondo me c'è stata, secondo me c'è stata rispetto al match precedente con Novara Adesso però bisogna concentrarci, avete qualche giorno di riposo Poi da domenica si comincia a fare sul serio, questa per voi è la decima finale Mancavate da un po' allo Scudetto e alla finale Te ne hai 23 di Scudetto, che ti aspetti da questo match? Partendo dal fatto che già Villa Cortese l'avete incontrata in Coppa Italia E non è andata bene E non è andata bene, sì, Villa Cortese sicuramente è una squadra che ha meritato questa finale È una bella finale, Bergamo-Villa, vogliamo rifare della Coppa Italia E niente, noi dovremo prepararci bene, sono comunque una squadra forte Salutele è la finale più giusta, per com'è andato l'andamento di tutto il campionato? Equilibrato, un campionato equilibrato? Un campionato equilibrato, alla fine siamo arrivati noi quindi penso che sia giusto così Pucca, sei tornata alla grande questa sera, 16 punti per te, è una grande prestazione Grazie, adesso oggi riposo, stasera riposo e domani si ripensa La capitana di grandi battaglie, abbiamo visto anche Larighetti, il guerriero in campo Avere le vene buoni, l'atteggiamento giusto Per cui sicuramente sarà una grande battaglia questa finale Partiremo dal Forum da Sago e si tingerà comunque di rosa La pallavolo femminile ritorna nei grandi posti in cui la nazionale ha dato dei grandi successi Io sono contenta, il Forum è sicuramente un bel palazzetto Sarà tanta gente, speriamo che venga il pienone Ma sicuramente, sicuramente sì Grazie Francesca Bocca al lupo, brava Bocca al lupo